ciao a tutti ragazzi ciao a tutte ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi sono qui nuovamente con un video mega haul tutto dedicato al make up di cose che ho acquistato sul sito di temo ultimamente sono in fissa col sito di temo per chi non lo conoscesse appunto temo e unicommerce che rivende davvero tutto trovate da capi di abbigliamento per adulti uomo donna bambini trovate accessori trovate make up skin care cose per la casa per la macchina prodotti di elettronica c'è veramente veramente di tutto e ovviamente potete acquistare le cose che più vi piacciono a prezzi veramente vantaggiosi inoltre c'è da dire che come tempi di spedizione siamo tra i 7 e i 14 giorni io devo dire la verità ho fatto quest'ordine che in realtà il terzo ordine che faccio sul sito di temo io ho ricevuto tutto nell'arco di una settimana quindi sono stata molto fortunata inoltre io vi lascio non soltanto la foto qui accanto di tutte le cose che vi mostro ma vi lascerò in info box il link del sito di temo accedendo a questo link e registrandovi appunto sulla piattaforma di temo fate tutti gli acquisti che più desiderate e al checkout aggiungendo il mio codice che apk 12 9 0 9 vi darà accesso a uno sconto ulteriore al checkout del 50 per cento quindi io fossi in voi ovviamente ne approfitterei questa volta ho voluto fare danni che riguardano il mondo del make up sapete per chi mi segue ho fatto già un paio d'ordini uno in cui ho provato le cose di abbigliamento non mi sono sembrate niente male il primo ordine che feci era invece un ordine misto dedicato alla skin care c'erano accessori c'erano cose per i capelli insomma un po di cose miste ecco questa volta invece ho voluto provare tutto ciò che riguarda il mondo del make up ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodottini che adesso vi mostrerò e ovviamente se volete vedere un bel video get ready with me in cui ci prepariamo insieme e proviamo appunto queste cosucce o meglio la maggior parte di queste cosucce perché sono veramente veramente tante io devo dirvi la verità ho ricevuto questo ordine questo pacco ieri non ho resistito oggi ha suocciato tutto e devo dire che sono rimasta molto molto impressa dalla qualità dei prodotti quindi detto ciò direi subito di iniziare anche perché un bel po di cose da farvi vedere e ovviamente prima di iniziare io come sempre invito tutte le persone che si trovano qui magari per caso per la prima volta ad iscriversi al mio canale in modo tale appunto da far sì che questa piccola community cresca sempre di più è l'unico modo in realtà per supportare il mio canale detto ciò direi subito di iniziare voglio iniziare con due cose accessori che ho preso che riguardano il mondo del make up la prima cosa è questo set di 5 peddo per l'applicazione delle polvo di viso 70 e questa volta ho voluto scegliere solo ed esclusivamente quelle in nero c'erano in tre colorazioni se non erro c'erano tutte nere c'erano tutte bianche c'erano color crema l'ho voluto prendere in nero perché comunque si sa il nero è un passepartout ecco un colore che va sempre bene devo dire che sono fatte molto molto bene io ho già in passato con il primo ordine se non erro le acquistai e mi ci sto trovando molto molto bene quindi devo dire lo volete riacquistare sono fatte molto bene sono uscite benissimo hanno poi diciamo questa parte dove si va ad inserire il ditino in velluto e mi piacciono davvero tanto l'altra cosa poi che riguarda sempre il mondo make up ma è un accessorio e questo prodottino qua e sto parlando in realtà di un prodotto che serve per lavare i pennelli questo qui è fatto in silicone vedete c'era in varie colorazioni ho voluto prendere lilla perché come sapete lilla è uno dei miei colori preferiti questo qui va messo appunto nel lavandino e qui mettete un po di sapone un po d'acqua e lavate tranquillamente tutti i pennelli e le spugnette ovviamente questo qui non l'ho ancora provato però ho visto che aveva veramente delle ottime recensioni quindi ho voluto acquistarlo e detto ciò passiamo alla ciccia passiamo alle cose più succose ecco voglio subito iniziare con questo kit labbra che è composto appunto da una matita e da un messo rossetto questo qui è un waterproof long lasting lipstick e lip liner due in uno mi piace parecchio questo kit e io l'ho preso nella tonalità 06 per chi fosse appunto interessato devo dire che il colore è esattamente lo stesso c'erano anche kit in cui magari la matita era un tono leggermente più scuro del rossetto invece questo set che ho preso io è composto appunto della matita e del rossetto esattamente nella stessa tonalità la matita è fatta in questo modo è una mini size rispetto al rossetto che invece è una full size ovviamente ve li swatcho la matita è questa qui molto molto cremosa io ovviamente ho scelto questa tonalità nell'ottica del natale quindi nell'ottica poi di andare a mettere un bel rossetto rosso e devo dire che questo qui è meraviglioso come profumazione devo dire non c'è alcuna profumazione il che per me è un lato positivo perché a volte le profumazioni dei prodotti cosmetici non mi fanno impazzire poi ho voluto prendere altre due matite labbra queste qui erano riproposte in 12 o 14 colorazioni ho visto che avevano delle review veramente ottime ci avevano quasi cinque stelle 4.8 e quindi lo volute prendere sono del brand dragon roni vedete sono fatte in questo modo e ho voluto prendere due colorazioni adesso ovviamente ve le faccio vedere ho preso la 0 6 e la 0 8 allora sono di due tonalità che ovviamente io nel quotidiano utilizzo sempre perché le matite labbra lo sapete sono comunque il primo step prima dell'applicazione ovviamente del rossetto di solito si va a meciare o si scelgono delle tonalità leggermente più scure rispetto al colore poi del rossetto che si va ad applicare le matite comunque sono queste qui vedete la 0 6 e la 0 8 bene voglio sbocciare sono molto molto cremose e assomigliano tantissimo alle matite di chico questa qui è la numero 0 6 ed è un bellissimo ma sapete che io adoro follemente questa tonalità dei rossetti ecco l'altra invece la 0 8 come vedete già dal pack vira più verso il ruggine verso più diciamo verso il marroncino ed è appunto questa qui vedete simile a quella che ho su oggi ma direi con una venatura più bruciata ecco di marrone bruciato molto molto belle anche queste devo dire sono rimasta veramente colpita dalla scrivenza perché sono davvero molto cremose poi ho voluto provare un altro marchio sto parlando di beauty glazed e di questo marchio ho voluto prendere due cose che mi hanno subito riportato alla mente il brand rare beauty lo potete capire già dal pecc cioè vedete il pecc esterno ha il numero del prodotto qui in alto ed è fatto esattamente nello stesso modo del pecc di review di ma il pecc primario devo dire è esattamente identico vedete questo qui è il pecc interno e ditemi voi se non assomiglia ai correttori di ovviamente rare beauty io ho voluto prendere questo qui appunto di beauty glazed ed è un full coverage concealer light natural coverage nella tonalità 103 è una tonalità leggermente più scura rispetto al mio incarnato ma è leggermente più giallina infatti io l'ho voluta prendere con l'ottica di andare a utilizzarla come primo step quindi andare in realtà a contrastare la parte violacea delle mie occhiaie e poi magari su di esse applicare un correttore illuminante che vada invece a illuminare appunto l'area del contorno occhi devo dire che mi sembra un prodotto full coverage se vedete la differenza tra la mano dove lo applicate la mano dove invece non l'ho applicato e tra l'altro mi sembra comunque come texture non troppo tic quindi non troppo cremosa e quindi non dovrebbe andare a risaltare troppo quella che la texture della pelle ovviamente voi fatemi sapere se volete poi vedere questi prodotti in azione e dello stesso brand ho voluto prendere ovviamente un blush che fai non li provi i dupe dire beauty che costano 30 euro ovviamente sì ho preso questo qui che appunto un blush ditemi voi se non è fatto allo stesso modo anche la scritta mi ricorda tantissimo i prodottini dire beauty e questo qui è un lascio nella tonalità 01 creamy liquid blush ve lo voglio far vedere ho preso proprio una tonalità malva che appunto una delle tonalità che più adoro indossare soprattutto in inverno questo qui volendo si può utilizzare anche a modi rossetto e vedete è bellissimo la sfumabilità mi sembra pazzesca e mi sembra anche che non si scompone come colore quindi vorrei assolutamente provarlo e ovviamente una volta mostrati i prodotti li metterò già in uso e vi dico già che la maggior parte di questi prodotti andranno a finire nella beauty bag del mese di dicembre così da tenerli appunto sotto mano poi ho voluto spaziare un po anche con i prodotti occhi io ho voluto prendere due matite occhi le ho scelte in queste tonalità che mi ricordano tantissimo il natale e adesso capirete anche il perché perché sono delle bellissime matite che venivano riproposte se non erro in 12 tonalità tutte tonalità metalliche la prima che ho preso è questa qui entrambe del marchio davis e sono le waterproof protection lip and eyeliner pencil quindi possono essere utilizzate anche per le labbra ma ovviamente questi colori qui io li utilizzerò a modi eyeliner o magari nella rima interna se sono performanti il primo colore che ho scelto è questo argentato e il colore numero 20 ed è bellissimo ovviamente adesso ve lo faccio vedere ditemi voi se questo colore qui non è stupendo e l'ho pagato veramente poco cioè voi vedrete a fianco in realtà io quanto ho pagato questo prodotto vi lascio ovviamente anche in infobox quelli che sono i link che vi riportano direttamente ai prodotti e ditemi voi se questo colore non è spaziale stesso discorso vale per la tonalità vi dico subito 10 che invece è questo bellissimo verde vedete stupendo anche questo metallico ovviamente se mi dovessi trovare bene perché no prenderò sicuramente anche altre tonalità perché devo dire che questi colori mi piacciono parecchio poi sempre rimanendo in tema occhi ho voluto prendere un prodottino da utilizzare come base agli ombretti quindi per andare ad enfatizzare quelli che sono gli ombretti in polvere e ho voluto prendere questo qui che in realtà è un eye shadow è un eye shadow stick di questo brand lang mani vedete il pecc esterno è questo qui l'ho preso nella tonalità 15 che non c'entra nulla con diciamo il bollino ecco ed è un bellissimo marrone non troppo caldo direi questo qui si sfuma molto molto bene questo appunto come vi ho detto l'ho immaginato come prodotto base ai look occhi quindi magari per fare uno smokey eye o comunque per andare poi a sovrapporci degli ombretti shimmer questo qui fa appunto una bella base grip e quindi ho voluto prendere questa tonalità che poi una delle tonalità che più utilizzo soprattutto per gli smokey eye e sempre rimanendo in tema occhio ho voluto prendere quest'altro prodottino di questo marchio mio mio vedete nella tonalità 04 questo qui invece è un matitone shimmer quindi questo qui lo potete utilizzare o sovrapposto al matitone che vi ho mostrato prima oppure soltanto così sulla palpebra mobile proprio per andare a regalare questo bellissimo effetto shimmer anche questo matitone e l'ho parlato pochissimo era di proposto in tantissime tantissime colorazioni ovviamente io cercherò di provare quante più cose possibili con voi e poi vi darò ovviamente quelle che sono le mie recensioni a riguardo fatemi sapere ovviamente se volete vedere un bel video che trade with me io cercherò di provvedere quindi vi aspetto numerose nei commenti e poi ho voluto prendere anche un altro rossettino questo qui in realtà io già l'ho visto su tik tok e mi incuriosiva tanto soprattutto per il pack che è fatto a forma di labbra di temi voi se non è stupendo questo prodotto qui ed è lo scelto nella tonalità 04 questo qui ha una profumazione ai berri quindi ai frutti rossi ed è un bellissimo fragola c'è questo qui è un rossetto pazzesco adesso ve lo suoccio quando l'ho visto detto no questo è uguale all'altro invece vi posso garantire che sono completamente diversi questo qui è proprio un bel rosso acceso questo qui invece è un bel berri quindi vira più verso un rosso lampone direi un bel colore lampone molto molto bello il pack interno appunto come vi dicevo è questo qui ed è di questo brand cm a due matt lipstick molto molto bello questo colore non ho finito ho preso anche una palettina occhi perché comunque vanno provati anche gli ombretti e tra i vari prodottini che mi incuriosiva hanno voluto prendere questa palette di di calo di questo marchio qui questo qui è il pack esterno e ovviamente io già lo suocciato i prodotti e e questa qui è la palettina diciamo che ho scelto una palettina di toni sfruttabili nel quotidiano e devo dire che i colori che mi hanno particolarmente colpito sono i due shimmer e questo qui questo qui è un bellissimo bronzo vedete adesso me lo scoccio è stupendo questo ombretto qui ma anche questo glitter ombretto glitterato è spaziale questo qui è veramente multi chrome e lo immagino già applicato per i look natalisti cioè ditemi voi se questo qui non è spaziale soprattutto per i look serali questo qui è molto molto bello sugli ombretti matt voglio diciamo utilizzarli prima di giudicarli ecco vi svocio poi anche quest'altro ombrettino qui che rispetto agli altri fa kick off penso che si può vedere della cialda c'è si sgretola proprio anche questo è molto molto bello devo dire però rispetto al marrone si presenta a mo di flake quindi vedete fatto in questo modo questo qui è bellissimo magari ci mettete questo sopra stupendo poi credo sia arrivata alla fine ultimo prodottino voluto prendere un eyeliner sparkle quindi un eyeliner da utilizzare appunto in occasione del natale l'ho preso nella tonalità 05 ed è di questo brand qui avierle avierle e quando l'ho visto questo qui mi sembrava un prodotto chip invece vi posso garantire che il prodotto in sé per sé è stupendo adesso ve lo faccio vedere cioè questo qui mi ha lasciata letteralmente a bocca aperta quindi io non vi do l'ora veramente di provarlo e di farvelo vedere questo qui è appunto un eyeliner glitterato stupendo io me lo sto mettendo qua e ditemi voi questo qui se non è spaziale secondo me può essere utilizzato anche a mo di ombretto proprio su tutta la palpebra ed è in un colore stupendo argentato meraviglioso questi quindi erano tutti i prodottini che acquistato in quest'ordine che ho fatto veramente meno di dieci giorni fa sul sito di temo ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodottini e cosa volete vedere in azione io ci tengo a precisare che se volete acquistare alcuni di questi prodotti li trovate tutti linkati giù in infobox tutti link di tutti i prodotti che appunto utilizzato li trovate giù in infobox e soprattutto se volete provare questa experience di acquistare qualcosina dal sito di temo che tra l'altro è un sito molto molto economico e che vi permette veramente di acquistare la qualunque potete tranquillamente cliccare al link che vi lascio in infobox così da fare un bel carrello assortito registrarvi fare il carrello e poi aggiungendo il mio codice sconto a checkout che vi ripeto è apk12909 riceverete un bello sconto ulteriore quindi io fossi voi ne approfitterei in ogni modo vi ringrazio se siete arrivati fino a qui mettete un bel like iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video un bacio a tutti ciao